Con Diego Boschini, vice coach del Valle Soverato, presentiamo la trasferta di domenica prossima ad Olbia, seconda giornata di ritorno della regular season girone A. Il Soverato che vuole proseguire dopo la vittoria e rimonta di domenica scorsa in casa con Martignac. Assolutamente d'accordo, nel senso che dobbiamo dare continuità ai risultati, questo è fuori discussione. Loro sono una squadra comunque sempre da uno sottovalutare perché in questo girone, come abbiamo sempre detto in tutte le altre interviste, ma anche da Bruno, anche da tutte le ragazze, in questo girone non ci sono squadre materasso, quindi bisogna essere concentrati e focalizzati bene sulla partita. Loro hanno cambiato l'allenatore e questo gli ha dato un qualcosina in più, sicuramente, perché anche a livello tattico hanno sistemato qualcosina e soprattutto si vede che c'è una preparazione della partita leggermente diversa da quella che c'era nella gara di andata. Quindi sicuramente ci dovremmo aspettare una squadra molto agguierita che vorrà fare punti in casa e noi dovremmo essere bravi a portare invece il bottino pieno a casa nostra. Presentiamo questo avversario sotto il profilo tecnico perché, come dicevi tu, rispetto all'andata è una squadra un po' diversa che è partita con delle difficoltà, poi nel corso del girone d'andata però ha inanellato una serie di risultati positivi. Adesso Olbi è il reduce dalla sconfitta con il Club Italia, ma sicuramente vorrà iniziare e vorrà dare il meglio in questa via di girone di ritorno. Sì, più che la sconfitta con il Club Italia vorrei ricordare la sconfitta 3-1 contro San Giovanni Marignano quindi è riuscita comunque Olbi ad aggiudicarsi un set ad una squadra che fondamentalmente ha le caratteristiche per poter fare la promozione in A1. Quindi non è assolutamente da sottovalutare, come dicevamo di Montale che non era da sottovalutare infatti la settimana dopo che ha giocato contro di noi è andato a vincere in casa contro Pinerolo che è la seconda forza del nostro girone. Quindi sono squadre che hanno cambiato molto il loro volto rispetto all'andata e su cui bisogna fare un lavoro sia tattico che tecnico e soprattutto di attenzione elevato di alto livello. Chiara Di Parbelli, domenica prima trasferta del girone di ritorno, si va ad Olbia per proseguire la striscia positiva dopo le vittorie con Montale e Martignacco una partita che sarà sicuramente ostica come tutte quelle di questo girone. Questo senza ombra di dubbio, siamo riuscite domenica a ribaltare il risultato iniziale del 2-0 e speriamo che questa vittoria abbia un attimino anche smosso un po' gli animi e ci possa riportare a far bene. Olbia sì, è un campo difficile, ci aspetta una trasferta comunque tosta e una squadra ostica come tutte quelle di questo campionato quindi noi dobbiamo rimanere sempre molto attenti e molto concentrate in campo senza arrenderci mai. Siamo praticamente nel girone di ritorno della regular season quindi avete affrontato già tutte le squadre del vostro girone che idea ti sei fatta di questo campionato sin qui? Avete avuto anche voi qualche scivolone però nel complesso diciamo che siete al terzo posto state rispettando le aspettative di inizio stagione? Sì, quello assolutamente, come ho detto anche la volta scorsa questo è un campionato che non ti regala nulla quindi bisogna sempre stare diciamo sul pezzo non mollare mai perché ci è capitato qualche scivolone ma a dimostrazione del fatto che appena si molla un po' dall'altra parte comunque c'è una squadra pronta ad attaccare e a voler fare risultato anche loro quindi ripeto bisogna sempre sempre non mollare mai. Grazie.